Saluto a tutti e bentornati a un altro episodio di Fisicamente Aula Studio. Oggi con voi vorrei commentare questa bellissima immagine che è stata pubblicata oggi sul sito Astronomy Picture of a Day, che vuol dire semplicemente immagine astronomica del giorno, e quello che vediamo è quella che è la nebulosa del Cigno. Questo è un oggetto che è visibile anche con un telescopio amatoriale nella costellazione del Cigno. Tecnicamente è chiamata NGC 7027, però essenzialmente è la nebulosa planetaria del Cigno. Allora, andiamo a vedere subito cosa vediamo. Ma vediamo innanzitutto degli oggetti circolari di colore blu, e poi vediamo come dei getti, come delle piccole esplosioni in varie direzioni, che sono caratterizzate da colori anche sul rossiccio, sul rosa, via dicendo. Poi ovviamente tutto intorno abbiamo le stelle, e questo è quello che vediamo. Allora, partiamo proprio da quest'ultimo punto, le stelle. Diciamo che le stelle che vediamo tutto intorno sono stelle che sono sia davanti che dietro la nebulosa planetaria. In particolare si vede ovviamente che questa stellina e anche quest'altra sono più vicine, perché sono davanti alla nebulosa planetaria, mentre tutte le altre molto probabilmente sono più lontane, stanno dietro. Che cos'è questa cosa qua in mezzo? Beh, questo non è altro che il frutto di l'esplosione di una stella quando è arrivata praticamente alla fine della vita. Non sappiamo esattamente cosa sta avvenendo nel centro di questa nebulosa planetaria, però sicuramente quello che possiamo calcolare è che questa nebulosa planetaria ha iniziato ad essere formata più o meno 600 anni fa, quando i primi strati, quelli più azzurrini che vediamo nella parte più esterna di questa nebulosa, sono stati iniziati ad essere proiettati, sono stati espulsi, e quindi proiettati nello spazio intorno a questa stella, che evidentemente è nelle fasi finali della sua vita, mentre poi solo in una fase successiva sono stati sparati in aria in diverse angolazioni questi getti che sono, in quanto getti sono più, si dice, collimati in gergo tecnico, ossia non sono un'esplosione in tutte le direzioni che genera una sfera, ma sono proprio dei getti collimati in direzioni ben precise. Di cosa sono fatte queste sfere, questi getti? Beh, le parti più esterne, quindi questi strati di gas bluastro, sono appunto gas, l'ho già detto, sono essenzialmente gas, prevalentemente idrogeno ed elio, mentre questi getti, che sono stati espulsi in un momento successivo, sono formati anche da elementi chimici più pesanti, come per esempio carbonio, ossigeno, azoto, ma anche cose più pesanti tipo silicio, nickel e via dicendo. Quello che vediamo in rossiccio sono in particolare delle polveri, ossia dei piccoli grani formati appunto da questi carbonati, da questi silicati, da tutti questi elementi chimici, e cose effettivamente li ha generati, ma l'ipotesi più plausibile è che al centro di questa nebulosa planetaria, oggetti che noi non possiamo vedere, però lì in mezzo ci siano non una sola stella che sta per morire, ma in realtà due stelline, ognuna alla fine quasi della propria vita, due stelline che orbitano insieme, una intorno all'altra, e formano quello che è chiamato un sistema binario. Quello che molto probabilmente sta succedendo, è che una delle due stelle è un po' più vecchia della sua compagna, la sua compagna sta cedendo parte dei suoi gas più esterni, e sta cedendo a questa stellina più vecchia, alla sua compagna più vecchia, che è già morta, e questo fa sì che a un certo punto vengano a generarsi delle piccole esplosioni che generano questi getti più collimati, ognuna in direzioni diverse. Perché sono in direzioni diverse? Beh, perché ovviamente queste stelle orbitando intorno a se stesse cambiano costantemente la loro posizione, quindi nel momento in cui questa piccola esplosione avviene e il getto viene espulso nello spazio circostante, la configurazione di queste due stelle è cambiata nel tempo. Ovviamente quello che si può anche vedere è che per esempio questo getto che è un po' più corto di quest'altro, vuol dire che questo getto è anche più recente, mentre per esempio questo getto, oppure questo che sta andando verso destra, essendo più lunghi, vuol dire che sono anche più antichi, sono più vecchi. Perché lo riusciamo a dire? Beh, semplicemente perché il materiale espulso ha avuto più tempo per allontanarsi con questi getti qua, piuttosto che con i getti che sono un attimino ancora più vicini alla parte centrale della nebulosa. Una piccola curiosità, perché si chiama nebulosa planetaria? Quando di pianeti qua, purtroppo, se ce n'erano, non ce ne sono più, perché a causa dell'esplosione che ha generato questa bellissima distribuzione di gas e polveri, i pianeti sono stati distrutti in questa esplosione, si chiama planetaria perché perché quando i primi astronomi, con i primissimi telescopi, avevano osservato questi oggetti, loro credevano che queste fossero in realtà le fasi iniziali di formazione di un sistema planetario e da qui le hanno chiamate le nebulose planetarie. Però in realtà adesso noi sappiamo che queste sono le fasi finali della vita di un sistema planetario, nella fattispecie quando le stelle sono già nelle fasi veramente terminali della propria vita e finiscono la loro vita in maniera un po' turbolente, per questo che si vanno a creare questi bellissimi spruzzi di gas e queste bellissime sfere concentriche di gas che sono stati emessi nello spazio in epoche differenti. Benissimo, questo era quello che vi volevo raccontare per quanto riguarda questa immagine del giorno. se avete domande come sempre lasciatemi un commento e nulla, iscrivetevi, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video.